Una mostra semplice dal nome Il Santo, una mostra semplice come la tradizione di una famiglia, la famiglia Pascazio di Modugno. Il Santo è San Giovanni che fa parte dei misteri di Modugno, quindi lo possiamo trovare il bene del Santo. In realtà semplice, semplice come la famiglia che ha questo Santo da più di 100 anni, lo ha in possesso nella propria abitazione e lo coccola, diciamo così, perché è proprio uno di famiglia. La mostra è una sintesi, una sintesi di alcuni momenti più intimi, non quelli che la gente vede durante la settimana santa, ma dei momenti che vengono sentiti, momenti che vengono vissuti privatamente nella propria casa, cioè la vestizione. La vestizione che è appannaggio solo delle donne e di alcuni bambini, dove si alternano sostanzialmente donne un po' più anziane, che rappresentano un po' la tradizione, alle nuove donne della famiglia. Una mostra semplice che spero possa, diciamo, trasmettere quell'emozione che la famiglia Pascazio mi ha donato quando mi ha dato l'opportunità di fare quegli scatti.